Mauro, Mauro, Icardi, vai cazzo, ste vittorie poi sono bellissime, madonna, mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, Mauro Icardi, Mauro, Mauro, madonna mia, mamma mia, Milan ha giocato un derby, penso uno dei più brutti che io abbia mai visto sulla faccia della terra, ha fatto il primo tiro vero in porta all'ottantesimo tipo, quindi lasciamo perdere ragazzi, perché giuro che se il Milan dice la meritavamo, meritavamo di pareggiare almeno come minimo, io giuro vado lì, prendo questo coso qui di due chili e glielo tiro in testa, orco due ragazzi, mamma mia, mamma mia, veramente non voglio stare lì a parlare tanto perché vi faccio solo un po' le emozioni a caldo, che mamma, allora, respiriamo, mamma mia ragazzi, che goduria immensa, che goduria immensa, che poi un cross alla fine alla caso di Vecino, paperata di paperum e Icardi è lì, tac, rete, ce la meritavamo, l'unico problema è che abbiamo avuto anche sfiga, un palo, non concretizziamo tanto, è quello il nostro vero problema, però non voglio stare troppo a fare, voglio solo scrivere Mauro ragazzi in questo video, perché mamma mia ragazzi, quando serve c'è, c'è, è lì, ok, ma anche se Donnarumma avesse sbagliato e lui non è, non, non, non so parlare, se Icardi non fosse stato lì comunque, l'errore era stato vano, quindi ragazzi, solo da veramente mettersi lì a fare così Icardi, a fargli un bel, prendi proprio il cappello, aspettate un attimo, aspettate un attimo, il cappello dei Bakugan di quando ero piccolo, prendi il cappello e li fai così, Icardi, no ragazzi comunque fatemi sapere qua sotto voi cosa ne pensate di questo, dermis quanto state godendo da 1 a 10, lasciate un bel like, ci becchiamo al prossimo video e sempre e comunque, forza Inter!